Musica Ci troviamo a Cesaro in occasione della 21esima edizione della Sagra del Suino Nero e del Fungo Porcino dei Nebrodi mi trovo in compagnia del Sindaco Ecco ci siamo dopo due anni di stallo determinati dall'emergenza epidemiologica finalmente possiamo ritornare a valorizzare i prodotti tipici segnatamente ai nostri che sono il suino nero dei Nebrodi, il razza autoctona che appunto si alleva sui monti Nebrodi e il Fungo Porcino All'interno dell'evento saranno presenti degli show cooking dove verranno preparati dei piatti tipici della tradizione cesarese inoltre durante le strade e quindi durante le vie della Sagra si realizzeranno degli spettacoli folcloristici ci sarà intrattenimento musicale per i più grandi e per i più piccoli delle serate danzanti Mariolo, lo stagotto della nonna Speriamo di poter in questa primissima legislatura organizzare una seconda sagra che è appunto la Sagra della Mandorla Vi aspettiamo a Cesarò!